Ragazzi vi lancio una sfida, se entro mezzanotte raggiungiamo i 5.000 mi piace vi porterò nel prossimo episodio un nuovo ospite Mi raccomando ragazzi se avete bisogno di crediti passate da igvolt.it trovate il link in descrizione con il codice home avrete uno sconto pazzescamente incredibile Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul mio canale, oggi ragazzi siamo qui Di nuovo con la nostra serie dei calciatori panini ma oggi ragazzi c'è un ospite che è Fusegamer Ah pensavo Fussetto, bella ragazzi carichero ormai da Fusegamer No Fussetto ragazzi, ormai è di casa, ormai è Fussetto di casa Quindi ragazzi siamo qui nella nostra serie dove andiamo ad aprire le bustine dei calciatori panini Creiamo la squadra su FIFA, andiamo a giocare, questa volta giocheremo in due Andrea Sì Molto bene esattamente, se vinciamo apriremo altri 5 pacchetti, aggiorneremo la nostra squadra e andremo a fare la seconda partita E alla fine del video apriremo di nuovo i pacchetti ragazzi Quindi mi raccomando, 5 mila di piace entro a mezzanotte, passate in descrizione Dallo shop dei crediti, IG Volt, shop delle maglie pazzescamente incredibile E ricordatevi di scaricare OneFootball che la migliore ha per rimanere sempre connessi con i risultati del mondo del calcio Quindi Omar abbiamo queste bustine Eh certo Andrea, dai Diamo il via a questo video pazzescamente incredible Allora Andrea, partiamo col primo pack Dallo scorso episodio mi sono portato dietro Icardi, Mertens e Romagnoli Icardi oltretutto IF ragazzi perché avevamo la carta speciale ovvero la squadra dell'Inter E quindi la utilizziamo, la bruciamo per prenderci Icardi IF come avete visto dalla squadra Allora Ferrari del Sassuolo Ovvio Uh del Chievo Oh Gerbigno cavolo Gerbigno Alla sinistra ci serve Buonissima esattamente ottimo Poi abbiamo lo stadio qui doveva essere il Chievo 20 godi Esattamente È il Chievo E lo stemma della Lazio Tutte queste carte qui O lo stadio, lo scudetto eccetera eccetera Le uso per fare le carte speciali Esattamente Atalanta Atalanta, Andrea Quando avremo Juventus Berisha Portiere, ci serve il portiere Ottimo Krunic dell'Empoli Ollas del Lazio Ottimo Omar Un'altra volta Omar Ancora Ma mica lo puoi mettere Eh no questa perché è speciale Devo trovare la carta proprio di Ronaldo Ok Però se trovo Ronaldo posso mettere la carta speciale di Ronaldo Ok Di nuovo l'avevo già trovato E Santander E Santander che ha C'era Santander Cazzo Ronaldo Due volte ho trovato ragazzi Mi servirà Oh Fabio Uh Quagliarella Attenzione Cicc Buono Abate Fantastico Poi abbiamo la maglia della Roma Per possibili giocatori speciali E tra giocatori del Cosenza Vediamo lo stemma subito Stemma che non metta fuoco Palle può forse possibile Ok Genoa Attenzione Vladrish Poi abbiamo Dzeko Della Roma Ottimo Yuri Cicc Del Sassuolo Abbiamo la scuola Completo del Foggia E tre giocatori Del Cittadella Il Vienese Pussetto Eh di nuovo Cazzo Quando ho trovato il primo pack Quaghe Miranda Miranda Ottimo Centrale Oh Ciruzzo Immobile Fatti troppi Perché ci sono due posti Di cui uno Che è già occupato I carri E più seto Adesso vediamo Comunque Come fare la formazione La maglia del Bologna E la supercoppa Esatto La supercoppa Quindi ragazzi Andiamo a formare La nostra squadra Adesso Se mancheranno dei posti Tra le riserve Quindi non avremo 18 giocatori Apriremo un altro pack Comunque altri pack Finchè non occuperemo Tutti quanti i posti Ok ragazzi Ecco qui la formazione Che abbiamo fatto Come vedete Ci sono giocatori Alcuni giocatori Che non sono Nella loro posizione In game Andremo a giocare Con un 4-2-2-2 Con Icardi E Immobile Davanti Adesso Pussetto Sinistra Metto Insepecio Entrocampo Bruvice Esattamente A difesa Quella che vedete Abbiamo il terzio Di sinistra Quindi ci siamo adattati Con Abate E Lazovic Del Genoa In panchina Come potete vedere Abbiamo Dzeko E Schick Là davanti Con le carte speciali Perché avevamo Due carte speciali Della Roma Detto ciò ragazzi Andiamo a cercare Il primo avversario E vediamo come va Visto che giocheremo In Coppa Speriamo bene Eh sì Caserta Che ti fa Juve Vediamo un po' La sua squadra MLS Perché c'è ancora Il C'è un obiettivo Settimanale Che ti dice Che se vinci Se partite Su 6 Ti da Martínez Giuntra è fortissimo Quindi dovrà vincere Quindi lui cercherà Di vincere Ma anche noi Andrea C'è Demolarmo in più Ovvero Cussetto Il cante Ah no Ah no Il cante argento Tira giro Ma no Ma no Tira Maurito Ma no No Dai guarda questo Non è salito Vale Che cosa è A giocare a calcio Eh no Ma che inculata Stiamo prendendo Andrea Basta sti cross No No Ma questo però Anche un buco di cuore Enorme Ma un grande Verisha Ma unito Ecardi E lui E lui E lui E lui Certo che è lui Grande Maurito 2 a 1 La rama Però È assolutamente È esatto Hai ragione Esultiamo quando sarà Il terzo gol Non su Possibilmente Apriamolo 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 No Si c'è No Adila Non ci vedo Alessandri Ecco l'imprendibile Sul primo palo Ma vaffanculo Ma però Andre è impossibile difendere Poi Giro Giro Vai subito così Batta e risposta Batta e risposta Schipta 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 Perché dobbiamo fare come lui Così È un grande Ce la portiamo a casa Andrea Ok ho visto Ci arriva Ciro Vai Stai pure Mauro Mauro Chi me l'ho Bussetto vai Bussetto Corri ragazzo Corri ragazzo E vabbè 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 Ciro Mettila Dai No Vai Il terzo incrocio Hai Maurito No Driss No Come viene Ma dai Ci sta Ciro Ciro Ma che cazzo Mi ha steccato Prova l'Andrea No Ok ok Dai dai La stiamo uccidendo Lo stiamo Lasciamolo passare Bravo Andrea Ma dai Ma dai Ma si ruba a stardo Ti giuro Si ruba a stardo Si ruba a stardo Ma devissimo Ce la fatte Chi stai Ci stavano prendendo Come una cozza E' uscita E' uscita di Ma ci ha aperto Non si sta Vabbè La prima Dovevamo capire Come giocare Andrea Allo gol Ma che culo Prova Bello Bello cazzo Bello cazzo E' uscita la prima Non possiamo aprire Le bustine Giusto Eh si In realtà Non possiamo aprire Ne apriamo tre Dobbiamo migliorare la squadra Ci serve il terzino sinistro Ok ragazzi Visto che abbiamo perso la partita Ci apriamo almeno Tre pacchetti Tre Si dovevamo Si vinciamo Erano cinque Ci prendiamo un giocatore Per ogni pack Vi ho cercato di trovare Un centra lampista Venzo Almeno E' un terzino sinistro Almeno Proviamoci Però non il terzino sinistro Dai Allora Esatto Non ci serve De Rossi Buono 83 Buono Buonissimo Difesa Non ci serve Andrei Andrei Non ci serve Te lo regalo Se vuoi Devo portare a casa No Ok Poi abbiamo La squadra Del Cosenza E la squadra Del Carpi Allora qui Senza troppi dubbi Velus Ovviamente Esatto Abbiamo i mobili Cardi Allora Abbiamo trovato qua Fofanac Ci può stare Brada Ricci del Cagliari Ansaldi Versi a sinistra Mamma mia Di gusto C'è andata Perfetto 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 Tra i giocatori Del Cosenza E tra i giocatori Di Brescia Qui Senza Nel Anzaldi Quindi Anzaldi De Rossi Ma perché Si apro fuori Il lato centrocampista Ci vuole Bel centrocampista Si Bello Sustanzioso Gollini Cresci Del Bologna Giaccherini Non ci serve niente Andre Tra i giocatori del Venezia E tra i giocatori De Foggia La bocca Mi dice Dada bene Ma in sale De Rossi Meglio che niente Dai Aggiungiamogli alla squadra E andiamo a fare Altra partita Ok ragazzi Abbiamo aggiunto La nostra squadra Nel Buon De Rossi Utilizzando la carta speciale Di Lorenzo Pellegrini E ovviamente Anzaldi Qui a sinistra E abate E finalmente Tornato a destra Andiamo a cercare Il prossimo avversario Cerchiamo di vincere Andrea Perché vogliamo gustare Ovviamente Vediamo il prossimo avversario Ancora questi Sempre MLS Andrea C'è quell'obiettivo Te l'ho detto Non ho capito Ma qua nelle partite singole Eh in divinione online In generale Anzi capisci lo cazzo Perché c'è il trainer Ma perché cazzo Sempre su trainer Non c'è mai capito Capito che Che fanno Non sono una di cappa Andrea Marrachuman Lascia sfida Oddio Su secondo paolo Che cross Non ci ha fatto Non ci ha fatto Questa è Andrei È calma Bravo Pussetto Bello lì Che è buono Ripasso Guarda E lì E lì E lì Addio De Rossi Ci amaro Dai Andrea Non molliamo Andrei Non molliamo No Guarda Guarda E te l'ho passata subito Te lo giuro La rendizia di ovvio Oddio Vai 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 Pussetto Arriva Arriva Pussetto Arriva Pussetto Vai Cardi Ci secondo Non ce l'ho Vai Pussetto Ci sta pure in mezzo Ci sta però Pussetto Fim Lo scambio Lo scambio Pussetto Con la suora La mette dentro De Rossi Mi sa No Che c'è Romagnoli Wow Sare dalla difesa Fazione offensiva Romagnoli Che fastidio Bella Dai Che azione Fa molla Ma hai visto che tiro Cazzo Provaci 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 Con il tempo giusto Va metterla Ceruzzo Questo non funziona Questa il finish Dimmi Ma quando sta tirando Che gol Che show 2 a 0 Madonna Te la metto Te la metto Te la metto Te la metto Dai Obi E no Che zero Questo forse Quinto Andrò Vai 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 Tra zero Albacete Obi Dai Quinto Sì E la vittoria Viene a casa Ragazzi Quindi questo vuol dire Che ci possiamo aprire Il cibo qua Candè Dai finalmente Sì Vai Andrea Facci sognare Dai Omar Napoli Omar Napoli Omar L'hai aperta tu Edris mi sa Lei è ferdi Mi sa Verdi Ok Simone Verdi Subito così Simone Verdi Beriscia Ok Io sempre di Francesco E poi Bella Vai 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 Ok Seconda bustina Empoli Oddio Andiamo un po' Benacer Pezzella Vito Rugo Carta di merda Di merda Cosenza sempre Oh è questa La carta è l'Italia Under 21 Femminile No femminile Under 21 Bella Oddio Ah no Bene ragazze Ragazze adesso Vediamo prima la squadra Ok sportiello Palasio Milan Laxat Mammo carmano Laxat è come si brutta Cos'è cava? Mammo carmano Un'ocerino Un'ocerino Ma un'ocerino Non sapevo E poi del Livorno Posso trovare Giannetti Il Livorno Eh gioca a Livorno Ma ti immagino Lo trovi Magari Ok perfetto Vai Altro pacchetto Dai Fiorentina Ci può essere Simeone Ok Invece Manco lui Anco Chi si chiamia Miss Goldaniga Magnanelli Rosasciocchi Ma vamo Carmetto Ma c'è ottimi Mister Mister Ole Ole Ma sei bene Per una carta speciale Oggi poteva mettere Mertensif Per dire La prossima volta Regà Napoli ancora Io vedo una cresta Io vedo una cresta È mare È mare È chiaro C'è troppa cresta In questa figurina Ma è Un'ocerino Napoli Mister Goulam Oddio No Goulam Oh Ma no È lì Venti Mamma di Nadavol Ma te ne ho Bello Che è questo Parma No Padova Bella Ma io Cacchio Grande Napoli Vediamo così Tra di tre De una Quattro Ecco Ancelotti Verdi Vabbè Comunque Ancelotti Mi ritengo soddisfatto Molto bene Quindi ragazzi Vediamo un po' Chi possiamo portarci dietro Nel prossimo episodio Allora Mare chiaro Abbiamo trovato la fine Abate È un terzino discreto C'è di meglio però Vediamo Ciruzzo Immobile Ed Ingeco Che abbiamo la versione Champions De Rossi Abbiamo la versione Champions Gonzalo L'abbiamo ritrovato in questo episodio Se volete risceglierlo Lo riscegliamo Miranda Ed infine ragazzi Fuzzi Gula Esattamente Mi raccomando ragazzi Tra i nomi di questi qui ragazzi Qui sotto mi raccomando Nei commenti Ovviamente passate dal canale Di Fuse Gamer Che ho fatto anche un video Con le panini Scegli la prima figurina Scegli la figurina Scusami Quindi passate in descrizione Shop dei credit Shop delle magliette Scaricate come a football Mi raccomando ragazzi 5.000 mi piace Entro mezzanotte E vi porto Un nuovo ospite Grazie alla visione Grazie di tutto E come sempre Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao